Sono stati premiati a Palazzo Strozzi Sacratia Firenze, sede della Presidenza regionale, i progetti delle agenzie formative e degli istituti scolastici toscani, vincitori dell'edizione 2018-2019 del concorso nazionale Progetti Digitali IEFP, i percorsi di istruzione e formazione professionale che rientrano in Toscana nel progetto regionale Giovani Sì per l'autonomia dei giovani. Si tratta dell'Istituto Fermi da Vinci di Empoli e dell'Agenzia Formi Impresa di Grosseto, tra i vincitori a livello nazionale, e del Consorzio Formetica di Lucca, a cui è andata la menzione speciale per i progetti Flower Book e Brand Book illustrati dai ragazzi. Presente è l'assessore regionale istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco. Non può che essere condivisa la strategia proprio di potenziamento delle competenze digitali, del calcolo computazionale all'interno dei percorsi di studio e di formazione. Quindi diamo anche una valorizzazione quest'oggi a questi percorsi che vengono un po' considerati come residuali e che invece sono percorsi molto importanti e che danno le competenze più richieste dalle imprese. I progetti presentati al concorso sono arrivati da tutta Italia e sono stati realizzati con videoclip e prodotti online o offline da una o più classi su temi affrontati durante l'apprendistato o in alternanza scuola-lavoro. Alla premiazione hanno partecipato anche rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, di Ampal e di AICA, l'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico.